Pronto? Senta, vorrei dirle che la c'è una macchina che ha due buchi sul parabressa fra la strada La sera del 31 maggio 1972, 50 anni fa, questa telefonata anonima ai carabinieri di Gorizia segnalò la presenza nella piccola frazione di Pettiano di Sagrado di una Fiat 500 abbandonata a bordo strada con fori di proiettile sul parabretto. Scattarono i controlli ma all'apertura del cofano esplose una bomba che uccise tre dei carabinieri che stavano perquisendo la vettura, ferendone gravemente un quarto Di tutte le stragi fasciste, questa è la più singolare per la presenza di un racconfesso Vincenzo vinciguerra di ordine nuovo. Si costituì nel 1979, inseguito da un mandato di cattura per via di un dirottamento all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, il primo nella storia dell'aviazione italiana conclusosi nel sangue. La sua assunzione di responsabilità per la strage di Pettiano arrivò però solo nel 1984 dopo indagini svolte prima in direzione di lotta continua, poi verso un gruppo di goriziani assolti dopo oltre un anno di carcere. Anni dopo si scoprì che altri ufficiali dell'arma ma la polizia non fu da meno, protessero i neofascisti che avevano ucciso tre loro commilitoni Anche il segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, fu inviato a giudizio per favoreggiamento e sfuggì al processo solo grazie a un'amnistia A scoprire la verità fu il giudice veneziano Felice Casson, attraverso un'inchiesta che permise anche di portare alla luce l'esistenza di Gladio. E dal carcere in questi 43 anni vinciguerra poi raccontato l'intera galassia nera, diventando test importante su tutte le stragi. Piazza Fontana, la questura di Milano, piazza della loggia Brescia e il treno Italicus. All'ultimo processo per la strage alla stazione di Bologna, che lo scorso aprile ha visto la condanna all'ergastolo di Paolo Bellini è stato sentito addirittura tre volte. Ha però vinciguerra sempre parlato e scritto libri a modo suo senza ciò indicare chiaramente i colpevoli dei vari reati. Perché vinciguerra continua a dichiararsi combattente contro lo Stato, con cui non intende collaborare, accusandolo anzi di aver orchestrato la strategia della tensione. Ho incontrato vinciguerra in carcere, per diversione. Una lunga intervista con lui chiude il libro in cui racconto lui e la strage di Beteano. Una strage caratterizzata da una incredibile serie di depistaggi e ancora oggi è difficile riuscire a credere che tutto questo sia davvero accaduto.